Emergono maggiori particolari riguardo all'episodio di cronaca che si è registrato a Modica nelle notte tra martedì e mercoledì in contrada a Guglie, sulla provinciale Modica Pozzallo. La donna, che è stata legata, picchiata e derubata, avrebbe circa 80 anni e vivrebbe da sola nella sua abitazione di campagna. I ladri sarebbero entrati in casa convinti di non trovare nessuno per compiere furto, ma una volta all'interno dell'abitazione si sarebbero accorti che nella camera da letto dormiva la donna. Svegliata di colpo, la povera donna non ha avuto il tempo di capire che cosa stesse accadendo quando i malviventi si sono scagliati contro di lei. L'anziana signora sarebbe così stata legata e malmenata. Alla fine i malviventi hanno messo a soccuadro la casa portando via circa 100 euro in contanti e qualche gioiello. Solo dopo un po' di tempo dall'uscita dei malviventi la donna è riuscita a liberarsi, chiamando la figlia che subito è corsa in suo aiuto ed ha avvertito la polizia del commissariato di Modica. L'anziana donna è stata poi trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, dove ha ricevuto le prime cure del caso. Sul grave episodio stanno indagando gli agenti della polizia di Modica guidati dal vicequestore aggiunto Nicodemo Liotti. Le forze dell'ordine hanno già sentito la donna e sono alla ricerca di tutti gli elementi utili a rintracciare i fautori del reato. Non si capisce perché i malviventi non si siano solo accontentati di portare a termine il furto, ma abbiano utilizzato così tanta violenza nei confronti di una povera donna anziana in difesa.